5 4 3 2 1 No, al muro destra 3 In sinistra 2 e gira dentro Accenno destro 100 100 E sfiora sinistra piena lunga Fiora sinistra piena lunga Vai, 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 vai Per attenzione Al palo sfiora sinistra 3 dentro Occhio in uscita, eh 100 Posso tagliare piena Apre e diventa 4 il secondo 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 7 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 12 13 14 15 13 14 15 15 15 16 20 in sinistra 3 dentro 3 dentro per destra piena 50 alla volta di destra 4 lunga 4 lunga 4 lunga attenzione all'albero stacca su questo che stiamo dentro in destra piena in destra piena la destra patina lunga è quella che scivola la destra patina lunga è quella che scivola è pulita la critica sinistra piena in destra 3 sinistra piena in destra 3 50 destra 50 l wanna 4 il 70 70 50 SPD 60 60 da destra dellaichetta da destra dellaichetta da destra dellaichetta Salta a finestra 5 Salta a finestra 5 Salta a finestra 5 Salta a finestra 5 S Корi alla mrs 4 Qualcuno Nel film sia la mattina Di salta destra 4 conca nona nature Il badacqua destra 4 enough Andiamo a uscire dentro 100 l'acqua c'è il suo apprendimento l'acqua non è un'unica la gestione è tutta la scuola l'acqua è dentro dentro su, che umida non ci sono però lo stesso la cattoria è dentro l'acqua è dentro l'acqua è inutile 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.